a subito ma m-a fracat tu davanti ne abbiamo due contatto andiamo indietro andiamo indietro a fare con le ducce c'è un altro ragazzi sono altri due lo shop andiamo 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 ma l'ho visto no ma li vedo stavo al capo qua via gli spara quel coglione oh gentle bastardo dov'è? ce la faccio terra uno dove? dove? un compagno è tornato in squadra oh c'è il suo team qua però c'è il suo team qua aiuto ma non vi allontanate così ragazzi non vi allontanate così no sono andato a finire quello che avevo sparato eh lo so due qua due e togliere qualche ping sono andato a finire quello no sono andato a finire quello no sono andato a finire non ho sparato allontano non ho finito per favore andiamo in pazzo con le tende vediamo sempre 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 con le tende vabbè i ping sono troppi non si capisce niente sì non si capisce niente traccatissimo mamma ma che cazzo fanno non morire quelli su un parco dico e che cecchino di merda oh attenzione cazzo prende altezza venti qui sopra raga prendiamo i palazzi andiamo verso di qua ok palazzi riusciamo riusciamo questi ecco uno c'ho giù 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 è sopra il lancio bastardo andiamo c'è gente qua sopra dietro raga dovete salire dalla corda c'è un angolino proprio dell'edificio io ho capito però siamo salutiamo giù e io so so su io un gula mamma dai cazzo di corda fra te veloce a terra veloce a terra avete coraggio chi c'è chi raga mi serve sul posto raga eh dov'è dove sta andando stu coti dove sta andando andando guardate di qua devono fare vede che stanno qua eh vado di qua vado di qua vado di qua uavv nemico attivo andiamo pronti qua stanno qua sotto stanno da che stanno qua sotto qui qualcuno ha cassa munizioni no bene siamo fottute eeeh occhio eh dietro 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 ragazzi dietro uno ucciso dove vede che è? cazzo mi sparavo stu pezzo quindi eeeh pensiamo avanti pensiamo avanti pensiamo avanti andiamo pensiamo andare avanti cazzissimo qua dov'è che è? uno è fatto due dentro a case altri due dietro 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 stanno sparando a me che dovete coprire in qualche modo non vaffanculo ma che da castello dio caro da castello arriva 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 sono qui c'è gente a castello raga ahhh bella va da dove? da dove? da dove? da dove? oh patatube raga non mi sto capendo patatube beh ma sei vincato raga l'ha fatto verso di te dove sono morta io ahhh è entrato il coglione cazzine devo riprendermi l'arma cazzino 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 perchè sono la fuori io cazzino 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 2 ma vedi un po vedi un po vedi un po se salvato ma non ci credi tutto che si è passata di me tu rimane in vita no fra mi stanno facendo eh ciao scappa il discorso scappa via stai la prende il tempo ma che cuglione guarda ok bravo bravo scusami se non ti ho arrestato mi stavano cecchino è tranquillo ma vaffanculo finito il munizio venite qua di fronte c'è dietro ma come i caimani stanno il tuo team è nella zona dico in cui arrivo nell'aria tempo scaduto tempo scaduto attenzione cecchino mi servono colpi di piccolo calibro bastardo sulla montagna mi stava facendo prima brutti coglioni di merda andiamo andiamo lo andiamo 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 we house si prendete quello che vi serve qual'altro mi serve? due parti questo mi serve? che arma? uav nemico in zona ma che cazzo di arma di merda è questa? papà fai culo, vogliono da dove? da dove? ma che cazzo non so? papà due che è successo con Giorgiano? sono due la? era caduto? di dove? uav di disturbo nemico attivo non c'è no cazzo c'è il pizzo qualcuno qua qualcuno qua ragazzi cazzo stia a fuori che è? Mimmo sono da te Mimmo che Darkness no 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 qua Kyoto Schuko Schuko nao scuco la poggia cappazzano c'è Kick ma tu sei Scotto? eh Mimmo no l'ho vito l'ho vito non si vedeva io ho sparato in apache quella volta c'è gente qua tutte basse ma che schifo che fa dio cane ci siamo imputtando solamente qua e d'acqua vieni sali vai e ciao aspetta 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 muerto ora guardalo qua guardalo qua che culo fatale raga l'ultimi due l'ultimi due raga è vostra no dovete andare vuole grande bello bravissimo bello è la madonna madonna che grandi bella 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 bravi ragazzi bravi no Bello! Bello! Zucco di paticco! No! Pippo no! Pippo no! Pippo no!